Ora ormai non ti puoi chiudere, io voglio ben altro, basta, faccio non faccio, devi chiusi i serrandi, ma che si fa? Croce a nero! Ho fatto una serie di poche senere, ma che non ti guardi io? Ha mi giusto? Si dice il tempo non ti puoi essere riguardo, ma che non l'hai credito. Non ci sono finito. Ha proprio, non ci sono le nostre strade, ma sono i sii. Ha proprio giusto, non ci sono i sii. Oh, è proprio un ritmo, non ci sono il ritmo, non ci si. Andate, va proprio un giusto. Non ci sono i suoi figli, ma sono i suoi figli, ma sono i suoi figli. È sto parlando con, quindi non ci sono i suoi figli. Ehi, questo è un buon cane, mamma mi sta mangiando questo bucci d'egno. Vieni a vivere con me, vieni a vivere con te e con mamma. Ho migrato in una posta. Vieni a banana. Come fai scorto? Eh no, è proprio ogni volta che vengo. Ah, l'amoraggio che la voglio. Grazie a tutti